Buon pomeriggio, dopo omicidi agguati, quasi 5 milioni di euro saranno destinati per la sicurezza a Napoli. Dal vertice con il ministro dell'interno, Piantedosi, è emersa anche una strategia per rinforzare i presidi della Municipale, il servizio di Francesca Coppola. L'uso di metal detector nelle aree della Movida, 150 nuovi agenti di Polizia Municipale, militari in strada a Mergellina, dove si sono ripetuti agguati e omicidi e poi un monitoraggio più attento di Piazza Garibaldi. Sono i pilastri su cui si regge il piano per la sicurezza emerso dal vertice a cui ieri ha partecipato con il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Obiettivo trovare fondi e strategie per monitorare le grandi città, in collegamento anche i primi cittadini di Roma e di Milano, Gualtieri e Sala. Per le tre metropoli in arrivo 14 milioni e 800 mila euro, un terzo andrà a Napoli. 3 milioni e mezzo provengono dal Fondo Sicurezza, saranno impiegati per rinforzare il presidio notturno delle strade e assumere con contratti a termine 150 agenti della Municipale. Un milione proviene dal Fondo Unico di Giustizia, costituito da confischi al patrimonio delle mafie. 100 mila euro saranno poi destinati a interventi di carattere sociale. Nell'area della Movida, dopo gli omicidi del 18enne Francesco Pio Maimone e del 20enne Antonio Gaetano, hanno annunciati i nuovi presidi dell'esercito e l'utilizzo di metal detector per bloccare chi gira armato. Soddisfazione dal sindaco Manfredi, che aggiunge, sarà necessario applicare sanzioni amministrative ai genitori di minori trovati in possesso di coltelli. Giro di vite anche a Piazza Garibaldi, dove sorvegliata speciale non sarà solo la stazione, ma anche l'area che la circonda, al setaccio la regolarità di affitti in alberghi, case e locali.